Serpente Vardoglio, dove siete? Ehi, ehi, serpente, dobbiamo prendere Harrison. Cerchiamo un po' da questa parte. Certamente, andiamo. Dove siete? Bu! Oh! Eh, ciao, ciao ragazzi! Ma dove siete andati? Stavo cercando di entrare a stella per la gioventù. Ok. Ok, sono d'accordo. Ok, sono d'accordo per niente. Sono molto sicuro per andare a questo. Devo chiederti la stella. Subito. Ok. Eh, stella, puoi venire a prendere l'ostello per la gioventù di vacanza? Ma certamente, non possiamo andare da questa parte, non è vero? Ok. Siamo pronti? Ok, andiamo. Ok. Andiamo. Eh. Eh. Abbontoglio. Sente, serpente. Possiamo dormire o stella per la gioventù. Buonanotte, amico mio. Buonanotte. Buonanotte, stella. Buonanotte, Harrison. Grazie a te. Cosa? Perché stai domani? Ok, aspetta un minuto, devo prendere di svegliare Ecco, mi presti? Lo so, davvero, vai rigona Ma che cosa stai facendo? Ma che cosa stai combinando? Allora, te faccio struzzare il brutto bagagospo Ma siete voi? Andate subito a letto! Ok Sono sveglio Anche tu sono sveglio Ok, andiamo Stella, mi sono svegliato Molto, molto tardi Sono, eccovi qua Siamo molto tornati a casa Non preoccuparti, non preoccuparti Serpente a voltoio Ok, sei un amico cuore? Anche tu, serpente a voltoio Io voglio, resteremo insieme Beh, me ne vado Grazie a tutti 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 Grazie a tutti